Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuova puntata di Spill in the Tea with me, Cristiano Cervigna. Allora, sto ridendo semplicemente perché ci siamo lasciati quando, tre ore fa, con l'ultimo Spill in the Tea riguardante Belen Rodriguez e tutti i suoi drama del tradimento, anzi, dei tradimenti di Stefano De Martino e della sua depressione, se ve lo siete persi e ancora non lo avete visto, nell'info box qua sotto potete vedere tutto. Sto ridendo anche perché oggi alle 13 è uscito anche il nostro vlogmas quotidiano e quindi, nonostante io sia ancora in vacanza, siamo veramente tornati già operativi, lavorando come dei muli. Ma dovevo recuperare tutte le interviste che sono accadute durante questo weekend e quindi eccoci qui riuniti parlando nuovamente di Hilary Blasi perché anche lei ha rilasciato la nuova intervista, questa volta su Canal 5, questa volta dalla sua amica Silvia Toffanin a Verissimo. E andiamo quindi a fare l'analisi logica e grammaticale di quello che lei ha detto riguardante appunto la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e soprattutto riguardante il suo documentario, unica di cui abbiamo ampiamente parlato in due parti, trovate sempre tutto qua sotto nell'info box, andiamo a vedere quindi se ha detto qualcosa di nuovo oppure no. Vi conviene quindi continuare a stare comodi, praticamente oggi non vi dovete alzare dal divano, andare a prendere il vostro drink o snack preferito, mettere mi piace anche a questo video e iscrivervi al mio canale per non perdermene neanche uno. A sorso iniziale inizierei quindi a vedere cosa si sono dette Silvia e Hilary e poi ovviamente vi dirò la mia opinione. Allora on dance, le due si sono salutate nello studio di Verissimo e Silvia ha esordito dicendo finalmente possiamo parlare. Ora questo finalmente non si sa se è stato dato dal fatto che Hilary avesse o meno un'esclusiva oppure no, però l'ultima volta che le due si sono viste praticamente era quando c'era stata quell'intervista in cui Hilary aveva difeso a spatatratta il suo matrimonio, aveva anche dato delle MRDA ai giornali che volevano Totti con una nuova amante. Abbiamo parlato abbondantemente anche di quello, nelle playlist degli Spear in the Tea trovate tutto, ma c'è stata una premessa. La premessa è che nonostante le due siano amiche non si sono messe d'accordo, nel senso che le domande che Silvia Toffanin farà in questa intervista a Hilary Blasi non sono state concordate. Quindi Hilary Blasi fa questa intervista diciamo blind, senza sapere le domande e senza sapere gli argomenti, anche se comunque gli argomenti quali potevano essere se non nel documentario e quello che Hilary ha dichiarato. Bene, la prima domanda a cui Hilary risponde è il perché si è sentita di fare questo documentario, come mai ha deciso di parlare, di dire tutta la sua verità con un documentario. E vado a leggervi, citando appunto le parole di Hilary, lei ha risposto così. Sono stata per un anno e mezzo ad osservare, a capire quello che è successo, a leggere, a vedere tutti i punti di vista e le opinioni di tutti. E ad un certo punto ho deciso di mettere la faccia anche questa volta, dato che la metto sempre, e mi sembrava giusto dire la mia. Vi posso dire? Ha ragione, scusate! Cioè, allora, io durante il video dell'analisi logica e grammaticale di Unica l'ho un po' bacchettata, dicendo Ok, sì, hai fatto quello che dovevi fare perché tutti ti hanno amato, io in primis. Però, diciamo che se avevi già intenzione di girare questo documentario, dato che, da quanto abbiamo capito, lo stai girando da mesi, non dovevi far finta di non parlare per privacy e tutto quanto, se poi tanto monetizzavi di là. Ma il fatto che tu abbia voluto finalmente parlare dopo comunque un anno in cui tutti abbiamo detto la nostra, chapeau, ragazzi, hai fatto proprio bene. E poi, da qui, inizia una lunga intervista in cui si ripercorre i vari punti salienti del documentario. Potevano mandare in onda il mio video e avrebbero fatto e detto la stessa roba, però, ragazzi, mi potevano ringraziare alla fine, grazie del video reassunto, Cristiano. Fatto sta che Ilari comunque ricontinua a dire che lei, inizialmente, prima del distacco che lei aveva percepito da parte del marito, non aveva avuto nessun sentore, no, di una crisi matrimoniale. Avevano comunque le loro liti, come è giusto che sia, come hanno tutti, in una relazione e in un matrimonio, ma comunque non era successo niente che potesse far presagire tutto quello che poi è successo. Lei si è resa conto che c'era qualcosa che non andava perché, appunto, a un certo punto della loro relazione, ha trovato suo marito molto più distaccato, con un atteggiamento diverso, differente, e ne abbiamo parlato e ne ha parlato anche lei molto nel documentario, e è una cosa che quando conosci una persona da vent'anni e ci abiti insieme da vent'anni, riesci a capirlo. Ma comunque io qui, in questo video, voglio parlare di cose che magari non sono state dette nel documentario, e adesso parliamo di questo famoso benedetto caffè. Nella parte 2, in cui vi avevo anche raccontato della risposta di Francesco Totti, vi avevo anche fatto un nome di un papabile ragazzo, del papabile protagonista di questo caffè. Pensavo che in questa intervista Silvia le facesse la domanda diretta, le chiedesse chi fosse sto ragazzo, e se tutti i gossip, tutti gli spettegulessi che sono usciti dopo il documentario fossero veri oppure no. Però questo non c'è stato. Ma c'è una cosa diversa, almeno da quello che ho capito io. Nel documentario mi ricordo che lei disse che quando Francesco prese lei e la sua amica Alessia, e gli prese il telefono facendogli vedere il profilo Instagram di questo ragazzo, lei aveva chiesto se lo conosceva, e lei aveva negato. Io l'avevo capito così, mi ricordo così, ma nell'intervista a Silvia Toffanini lei cambia e dice «Dico che lo conosco, il ragazzo in questione, ma nego il fatto di averlo incontrato per un caffè». E lui poi non mi crede e inizia poi tutto il casino di cui abbiamo parlato e di cui sappiamo. Ora, non so se effettivamente mi sono perso io questa cosa nel documentario, o se è stata cambiata, o se appunto Ilari con questa intervista ha voluto dire un qualcosa di più, no? Perché forse si era persa questo particolare, ma io non me lo ricordo e quindi ve l'ho voluto ridire. Fatemi sapere voi, magari qua sotto tramite commento, se ho sbagliato io, se mi ricordo male io, oppure no, se anche voi avete capito e ve lo ricordate come me lo ricordo io. Però parlano anche della richiesta, chiamata appunto assurda giustamente da Silvia, di Francesco che aveva fatto a Ilari dicendovi «Guarda, per far sì di ricostruire un po' il tutto, il nostro rapporto, per non mettere un punto al nostro matrimonio, tu dovresti cancellarti dai social, cambiare il numero di telefono, non essere più amica di Francesco, di Alessia e smettere di lavorare». Hanno parlato di questa cosa e era un punto che mi premeva molto, ne volevo sapere di più, anche perché ne abbiamo parlato tutti noi. Quando abbiamo visto questa cosa, quando abbiamo sentito questa frase provenire dalle parole di Ilari nel documentario, tutti abbiamo avuto un unico pensiero. Francescone, Totti, nostro re di Roma, si è sentito un attimo sminuito da uomo, da padrone, da persona più elevata rispetto alla moglie, e quindi ha avuto quella richiesta perché lui comunque in quel momento non era più, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, nessuno perché aveva finito con il calcio, mentre al tempo stesso la moglie stava diventando e stava continuando a essere sempre più famosa grazie comunque a tutti i programmi in prime time su Canale 5 che stava presentando. E quindi, per via di tutta la mentalità del patriarcato, uomo ma donna, gna gna gna, gli aveva fatto questa richiesta perché appunto era insicuro di sé. Ilari ci tiene a chiarire questa cosa. Lei dice questo. Lui è sempre stato geloso nei miei confronti, ma non me la sento di paragonare questa cosa alle tragedie, al patriarcato. Io credo che magari era confuso e spaventato, e forse era una via di fuga più facile questa, ma niente a che vedere con quello che stiamo vivendo e leggendo in questi giorni. Ora, ovviamente è lei che ha vissuto la sua relazione, quindi è lei che lo conosce, è lei che può dire o meno determinate cose. Io però mi sento un attimo in dovere di sentire da queste cose, perché magari è vero che tutte queste richieste non c'entrano niente, con il patriarcato e tutte le tragedie che poi succedono giornalmente, purtroppo, in Italia nel 2023, quasi 2024. Però sono un campanello d'allarme. In quante relazioni tossiche l'uomo si è presentato come l'essere perfetto alla donna, fatto sì che la donna si innamorasse, per poi a mano a mano iniziare a privarla delle sue libertà e delle sue cose, facendo in modo che alla donna, che sarebbe la vittima, gli rimanesse praticamente solo lui come punto di riferimento e così da far diventare lui padrone della sua vita, che poi può sfociare in tragedia, purtroppo, oppure no. Ora, lungi da me giudicare, perché appunto la relazione, ripeto, l'hanno vissuta loro e se Hillary ha detto questo, magari è veramente solo gelosia o comunque una cosa brutta, però, boh, se lei non ne era spaventata, chi siamo noi per giudicare? Ma è anche vero che molte tragedie di cui appunto si parla tanto e di cui appunto si sono discostate loro, iniziano così, che poi questa non è una storia del genere, ovviamente, speriamo, però, ok, discostarsi, sì, difendere la tua storia, quella che è stata, sì, hai fatto bene, però neanche sminuire questo fatto come è stato sminuito o come è stato percepito da me, perché molte relazioni tossiche iniziano proprio così. La cosa che invece mi è piaciuta molto è il fatto che Hillary Blasi ha fatto nuovamente dietro front, ha accettato, no, comunque il fatto di aver sbagliato e ha chiesto scusa ai giornali e ai giornalisti quando è andata appunto a inizio dello scorso anno, se non mi ricordo bene, sempre da Silvia Toffanine, quando a difendere Francesco, il suo matrimonio, da tutti gli spettacoles che volevano Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco, dando delle merdi appunto ai giornalisti. Mi è piaciuta perché lei ha detto, io in quel momento comunque ho sbagliato, chiedo scusa infatti ai giornali, ai giornalisti, per come mi sono posta, però io sono venuta da te non fingendo e quindi facendo finta, interpretando il ruolo della dobbiamo salvare il salvabile, ma perché veramente io credevo ciecamente alle parole di Francesco. C'ero venuta a fare questa intervista super tranquilla, perché comunque rincuorata da Francesco che mi diceva, guarda, sono tutte fregnacce, quindi vacci tranquilla, e quindi diciamo che ho un po' strafatto, ma senza volere. Dell'investigatore, lei ha detto le cose che già sappiamo, e cioè non che lo ha chiamato per scoprire il tradimento, ma che lei già sapeva tutto a questo punto. Grazie o per via della figlia piccola, che Francesco, lo sapete, ve lo ricordate che si portava per i pranzi con l'amante, la figlia piccola che le faceva giocare con i figli dell'amante, e quindi grazie a lei ha scoperto il tutto, ma ha voluto chiamare l'investigatore per avere le prove, ok? Per il resto però sapeva tutto. E quando ha avuto queste prove, lei ha detto che ci è rimasta molto delusa, ma dall'altra parte si è sentita anche molto sollevata e libera. Ora, proviamo a capire perché sollevata, perché anche queste parole hanno destato un po' di critiche, no? Sui social. Secondo me, ha voluto dire sollevata e libera non in senso oh, mi sono tolta di torno Francesco Sotti, che non sapevo più come fare, perché non lo amavo più, ma si è sentita sollevata del fatto che per mesi ha avuto tutti questi dubbi, per mesi c'erano tutte queste voci, per mesi lei comunque era stressata e doveva, era l'unica che non sapeva la verità, e finalmente, quando ha avuto le prove sotto l'occhi, si è sentita sollevata in quel senso, nel senso che è finita, è finito questo marasma, ora so, posso magari decidere come comportarmi, ma qui posso metterci un punto. Io non so se capite quello che voglio dire, ma succede comunque anche comunemente, no? Quando te hai un presagio, quando te pensi una cosa negativa, no, di una persona o comunque di una situazione e ti stai a cervellare per giorni, settimane, mesi, stai male. Quando poi ti arriva la conferma della delusione con prove, con fatti e varie cose, è vero che rimani deluso perché dici, cavolo, allora magari avevo quella speranza che non fosse vera ma in realtà è la cosa peggiore del mondo, però dall'altra parte ti rincuori un po', ti sollevi perché dici, oh, almeno è finita, nonostante sia finita male, nonostante sia finita nel peggiore dei modi, però è finita e non mi davo più sta a cervella. Io l'ho intesa così. Poi dice anche che c'è rimasta molto male quando ha letto in questi mesi che i giornali o comunque i blog o i siti erano più dalla parte di Francesco che lo descrivevano come il re di Roma, il gladiatore, mentre parlavano di lei sempre come l'ex letterina, come se lei fosse meno, no? E dice infatti era come se venissi screditata. Poi comunque in queste cose non ci sono né vincitori né vinti, ma era come se fossero tutti dalla sua parte screditavano me anche perché mi hanno dato della poco di buono e io me lo ricordo perché appena uscì il fatto che Noemi Bocchi era la presunta nuova amante di Francesco Totti, il giorno dopo subito tutti i giornali hanno fatto la lista dei possibili amanti invece di Ilari come per dire sì, ok, lui ha l'amante però in qualche modo possiamo chiudere un occhio perché lei dall'altra parte non ne ha solo uno ma ne ha avuto una sfilza capite quello che voglio dire e poi arriva questa domanda col senno di poi dalle insinuazioni di Flavia Vento che era rimasta anche incinta fino ad arrivare ad oggi ha il sospetto che ci siano state quindi altre relazioni prima di Noemi Bocchi e lei risponde e qui finalmente sappiamo anche quello che pensa oltre il documentario è quello che Roma mi ha fatto capire ma che non lo sapevi? no non lo sapevo a me di fatto prove concrete non sono mai arrivate nessuno mi ha mi ha mai fatto vedere ti dico probabilmente sì ma non ho nessuna prova in cuor mio adesso penso di sì e quindi qui ci dà la conferma che adesso lei pensa che anche tutte le insinuazioni che sono state fatte anche magari da Fabrizio Corona e tutte le varie volte che sono usciti i vari flirt di Francesco Totti o le voci di Corridoio lei adesso crede che siano vere e quindi diciamo che ha aperto un po' gli occhi dei figli ha detto che di questo documentario ne ha parlato due giorni prima che uscisse e gli ha dato carta bianca e ha detto lo potete vedere come potete non vederlo hanno deciso di vederlo è stata molto contenta che la figlia Chanel abbia fatto quella Instagram Stories sostenendola di cui abbiamo ovviamente anche parlato nella seconda parte degli Ospir in the Tea dedicato a questo unica ma dice che per loro tutta questa storia non era una novità perché comunque l'hanno vissuta in prima persona a casa e soprattutto dice non è una gara date ragione a me siete dalla parte di lui perché non è giusto questo fatto di schierarsi lei ha voluto raccontare la sua verità non è che ha voluto dire o convincere qualcuno del fatto che lei avesse ragione lei ha detto io ho una storia da raccontare è la mia storia ho avuto la possibilità finalmente di poterla raccontare e l'ho raccontata chi mi vuole credere mi può credere chi non mi vuole credere amen non è che io devo espiare delle colpe e praticamente le cose che già non sapevamo riguardante tutto a questa storia sono queste raghi finisce poi l'intervista in cui lei racconta che ha fatto poi un viaggio da sola che comunque era una cosa dovuta e in questo viaggio ha capito queste cose che la vita che nella vita tutto può succedere ma è anche il bello della vita che ti sorprende nel bene e ti sorprende nel male e ho capito di puntare sempre su se stessi oggi sono serena e all'ultima domanda di Silvia cosa ti auguri adesso lei risponde così non lo so vediamo sono curiosa sono aperta e sono molto positiva mi lascio sorprendere ovviamente poi c'è stata la cosa che ci deve sempre essere e quindi Silvia Tofanini ha detto nel caso in cui Francesco o chi per lui volesse rispondere con altre dichiarazioni il suo studio e il suo salotto è sempre aperto speriamo che ci sia ma da quanto abbiamo appreso nella seconda parte Francesco non vorrà dire niente di più di quello che non è stato detto da parte sua e quindi rimarrà diciamo con un profilo basso però l'intervista su per giù è stata questa è stato un riassumere i punti salienti di tutto il documentario di cui noi abbiamo già parlato la cosa che ho notato io poi ditemi se ho sbagliato o se sono dei miei preconcetti è che è stata un'intervista strana nel senso è vero che comunque si doveva parlare di una cosa seria per Ilari e quindi non potevano essere tutte contente di vedersi ridere scherzare mandare tutto a taralluce e vino però mi sembrava come se Ilari non volesse stare lì come se fosse un po' scocciata nel rilasciare questa intervista come se l'avessi fatta di controvoglia non lo so allora le cose che lei ha detto sono su per giù le stesse che sappiamo le stesse che ha detto al documentario ma il tono la gestualità come le ha dette mi è sembrava una cosa controvoglia non so questa è la mia impressione probabilmente qualche mente cattiva che è tra voi ha detto che era obbligata a fare questa intervista perché torna a fare l'isola dei famosi e quindi siccome ha dato l'esclusiva a Netflix Pier Silvio l'ha obbligata tra virgolette a fare un'intervista sua verità anche per canale 5 quindi l'ha fatta di controvoglia proprio per questo motivo però cioè alla fin fine non c'è stato nulla di più di quello che è già stato raccontato questa intervista poteva anche non esserci perché non c'è stato l'episodio che non è stato raccontato un dietro le quinte non c'è stato quello scoop del tipo questo non è stato detto questo è successo dopo è stato semplicemente un riassunto ok e quindi è per questo che io dico boh perché è stata fatta è stata fatta così tanto per fare o perché c'era da contratto non lo so fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto tramite commento e per oggi veramente è tutto ragazzi perché siamo stati insieme praticamente tutto il giorno io lascio la parola a voi i commenti sono sempre aperti mi raccomando perché tanto li leggo tutti e non vedo l'ora di instaurare un dialogo anche su questo fronte la parte 3 dello Spin the Tea dedicato a Hilary Blasi e il suo documentario termina qua nel caso in cui ci fossero delle altre novità ovviamente vi aggiornerò non penso che ce ne siano di nuove però non si sa mai nella vita ci può sempre sorprendere sapete che ottobre novembre per quanto riguarda gli Spin the Tea e i gossip è stato molto molto succulento quindi chissà se magari qualcuno ci vuole fare qualche regalo di Natale anticipato dicembre è ancora molto lungo mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto ci vediamo domani con l'ultimo vlogmas di Charm in cui c'è l'ultima giornata mi vedrete in mezzo al deserto a fare dei casini assurdi boh e poi ci sarà anche tutto il ritorno a Milano e poi chissà magari uno Spin the Tea nuovo durante il pomeriggio vediamo voi però comportatevi bene mettete like perché tanto non vi costa niente e sostenetemi e fate girare il video con Goritmo di YouTube perché ultimamente è un po' così da bacchettare ci vediamo domani ciao oh wow